Noi dobbiamo essere figli della luce e questo è un altro concetto, dobbiamo mirare in alto come le acuile, non in basso, dobbiamo avere coraggio di mirare in alto e dobbiamo vivere sotto una luce, non nelle tenebre. Grazie a tutti. Sor Maria Celeste ci ha lasciato nove regole che le ha avuto ispirata da Gesù perché lei le sentiva dentro e soprattutto in un giorno dopo la Santa Comunione quando Gesù ha voluto rivelare l'idea di questo nuovo istituto che aveva nella chiesa. La castità è la terza regola. La prima è una regola dell'amore, l'unione e carità scambievole tra le suore perché tutta nella nostra spiritualità si riduce all'amore. Noi dobbiamo essere memoria viva di Gesù, memoria nel senso eucaristico, dobbiamo far vivere Gesù oggi nella nostra vita come? Come? Quando ci amiamo scambivalmente. E allora tutte le altre cose, tutte le altre nostre regole sono tutte contenute in Gesù. Praticamente ha detto Brustalosa che la nostra regola è una sola, si chiama Gesù. E la regola della carità e castità comincia con una frase del Vangelo come ogni altra regola ed è questa. Beati i puri di pure perché vedranno Dio. E già qua si vede che questa virtù della purità, della castità, viene da una cosa spirituale, vissuta come un contatto personale mio con Gesù, con il Signore. Non è solo questione dei nascesi, di custodire i nostri sensi, ma soprattutto di dare questo valore spirituale e dare una bellissima immagine delle acuile. Dice così. Saranno come acuile generose, innamorate, che guardano il sole senza battere le pappebre per la fortezza dell'amore. Con affetto amoroso. Allora queste acuile siamo tutti noi, non solo religiosi, ma tutte le persone del mondo. Dobbiamo essere innamorati di Gesù perché Gesù vuole essere amato. Vuole essere amato e in Lui se lo ameremo, tutte le altre cose si metteranno come si devono mettere a posto. Allora, generose, quelle che fissano il sole perché sono così forti, perché amano e non hanno paura di chiudere gli occhi, guardano fissamente Gesù. E dice poi. Questi sono i figli della luce che non abitano nelle tenebre, ma con la mira della retta intenzione guardano nello specchio lucido delle divine perfezioni dell'Oro Dio. Noi dobbiamo essere figli della luce e questo è un altro concetto. Dobbiamo mirare in alto come le acuile, non in basso. Dobbiamo avere coraggio di mirare in alto e dobbiamo vivere sotto la luce, non nelle tenebre. Benvenuti a tutti, benvenuti a Foggia. Benvenuti in questa chiesa del Santissimo Salvatore. Ci presentiamo, siamo le monache redentoriste. Qua nella chiesa ci stanno le spolie. Conserviamo il corpo della nostra fondatrice, Beata Celeste Prostarosa, che è stata beatificata nel 2016, 18 giugno. Vi volevo raccontare un po' di questa beata, che è l'unica beata di Foggia. È nata 31 ottobre 1696 a Napoli, contemporanea di Sant'Alfonso e anche l'ispiratrice della congregazione dei padri. La sua vita si svolge come di tutte le altre ragazze. È una ragazza scuziosa, gioiosa e ha anche una crisi adolescenziale, perché, come tutte le altre ragazze, si interessa di tutta la moda, di tutti questi tempi. E a un certo punto si accorge che nella sua coscienza non si sente realizzata, non si sente così pura, così realizzata pienamente. E sento uno scrupolo della coscienza, questa coscienza che sempre richiama alla purità di essere umano. E va a confessarsi, fa una confessione generale. Dopo questa confessione si dedica, fa anche un voto di purità, e si dedica tutto a Gesù Cristo. E non tanto questa purità sessuale, quanto purità nel cuore, che la attrae a Gesù e la fa innamorare di questo Gesù, che dopo per questo Gesù fa tutto. Comincia già da piccolo a fare delle penitenze e vede Gesù. Gesù la ricompensa, perché lo vede. Lo vede quando porta un sacerdote, un Santissimo Sacramento. Lui non vede sacerdote, vede Gesù e tanti altri momenti. E da quel momento comincia a essere anche grande mistica. Ha delle ispirazioni dentro al cuore. E lei, a sua volta, vuole dare a Gesù tutto. Vuole dare tutto a se stessa. E fa un percorso della sua vita, della sua dedizione. Prima diventa la carmelitana, dopodiché Carmelo si deve chiudere, deve cercare un altro posto. E Gesù, in questo pellegrinaggio, la guida sempre. Perché lei sempre cerca la sua volontà. E alla fine va a finire, a Scala, dove sta un gruppo delle signore che vogliono diventare suore, come visitantine. Però non erano vere visitantine perché non avevano una regola. Nel frattempo la nostra fondatrice ha delle regolazioni nel 1725 delle regole. All'inizio tutte le suore sono ferventi e si cambia. La visitantina è a Redentoriste. Si cuciono gli abiti, questi abiti rossi con quel mantello celeste. Questo mantello è questo abito che gli dà la Madonna, perché anche questo lei lo vede. Cominciano a vivere gioiosamente. Però, come si sa, c'è anche il lato umano. Sono delle difficoltà, gelosie, fino a questo punto che lei è costretta a uscire da Scala. E va in cerca dove può realizzare questo che ha nel cuore, quello che Gesù gli ha scritto nel cuore, quello che Gesù gli chiede. E alla fine viene qua, a Foggia, dopo tante altre tappe, nel frattempo, dove a Foggia può realizzare finalmente questo pensiero, questa volontà di Dio, che lei nel suo cuore ha sentito. E dove Gesù gli dice, vai a Foggia, io ti voglio lì. E qua, a Foggia, lei realizza veramente questo che Gesù vuole da lei. Tutto questo che lei ha avuto come mistica, come fondatrice, è tutto per far realizzare sia ordine nostro delle monache redentoriste, che siamo queste che preghiamo per tutto il mondo, la sua spiritualità e sono le parole che possono aiutare ogni cristiano, non solo alle monache, ma è molto universale, è molto aperta come donna per questi tempi. Muore, viene a Foggia, 1738, e muore nel 1755. È già chiamata santa, priora santa, così la chiama la gente. Passano tanti secoli quasi, finché è beata, e speriamo anche santa, però ci nasce un insegnamento, una indicazione, una strada, che se uno vuole essere santo, e siamo chiamati tutti a essere santi, dobbiamo seguire quella voce che sta nel nostro cuore, questa volontà di Dio di riconoscere che Gesù, questo è innamorarsi di Dio, perché poi noi facciamo tre voti di castità, povertà e obbedienza, però questi voti sono sempre Gesù che è povero, Gesù che è casto, Gesù che è obbediente, e noi lo vogliamo amare. E così questo vi auguriamo, che chiunque tu sia, un padre, una madre di famiglia, una suora, un laico, importa questo, essere innamorati di Gesù, e così uno è pienamente felice, pienamente realizzato, e può fare grandi cose, e dirà buona testimonianza di Gesù, Gesù che è redentore di tutti, che Dio vi benedica, e buon cammino, e sappiate che stiamo qua a benedicare per voi. Gesù che è di chiunque, Gesù che è dù sono 1959. Grazie a tutti.